Oggi ho qui un libro di Amos Oz, di poche pagine, come vedete, si chiama Cari fanatici, è un discorso che Oz aveva già cominciato dieci anni fa e con questo libro che comprende tre brevi saggi continua. È un inno alla moderazione, particolarmente indicata in quella turbolenta regione del Medio Oriente, ma Dio sa se non ce ne sarebbe bisogno un po' dappertutto. Lotz, che forse almeno è quello scrittore israeliano che io amo di più, c'è una bella leva, Grossman, Yoshua, Amos Elon, lui dice che intanto il fanatismo è un male atavico, è molto più antico dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo, più antico di qualunque ideologia al mondo, ha un fondamento intrinseco nella natura dell'uomo, il suo gene cattivo. Questo è come definisce il fanatismo a mio giudizio giustamente. Poi va avanti sviluppando questo discorso e fa capire come il fanatismo possa essere propagandato, imposto sia con modi brutali sia anche con modi apparentemente addirittura fraterni. Per esempio quando scrive non di rado questa malattia comincia con dei sintomi quasi innocui, che si esprimono nell'impulso a cambiare un poco le persone a cui si vuole bene, i figli, il fratello, la sorella, il partner, i vicini, a cambiarli per il loro bene, a volte persino a sacrificarsi per loro. Eppure dietro questa spinta a volere il bene degli altri si nasconde, ormai lo sappiamo, l'esperienza del ventesimo secolo, lo confermano il gene del fanatismo. E poi passa ad esaminare più da vicino la situazione di Israele e lì dice una cosa che tutte le persone per ragionevoli dovrebbero condividere. Il mio presupposto sionistico è semplice, non siamo soli su questa terra, scrive Oz, non siamo soli a Gerusalemme, lo dico anche ai miei amici palestinesi, non siete soli su questa terra, non c'è scampo alla spartizione di questa piccola casa in due appartamenti ancora più piccoli. Sì, una casa bifamiliare. Ecco sotto queste l'inno alla moderazione va condiviso e per motivi generali di convivenza e per motivi specifici per quanto riguarda la tragedia senza fine del Medio Oriente.